E allora dai... Ancora un'iniziativa voluta fortemente dalla Dricesta e stavolta dal cantante della Solidarietà al secolo Salvatore Ragneri che porta avanti un progetto grazie anche alla vendita del suo ultimo disco Ricomincio da 20. Ragneri è rimasto entusiasta della presidente della Dricesta Olus Carla Panzino. Grazie alla collaborazione con Abruzzo Nomad è stata resa possibile questa iniziativa. Un dono di 5 carrozzelle che va però ben oltre il mero gesto. Prosegue infatti il progetto di umanizzazione portato avanti con tenacia dalla Dricesta per l'arredo del reparto di pediatria dell'ospedale di Pescara. Testimonial da 15 anni della Dricesta è l'attore e regista Alessandro Preziosi e tutti possono contribuire ai progetti dell'associazione con la donazione del 5 per bille. All'iniziativa erano presenti i medici, i vertici dell'asle di Pescara e le volontarie e i volontari della Dricesta. Il progetto di umanizzazione è stata proprio la prima spinta che abbiamo avuto io con Alessandro Preziosi che si è sentito subito coinvolto con il progetto Un buco nel muro che tuttora è attivo perché laddove riusciamo a realizzarlo, negli ospedali dove riusciamo a realizzarlo lo facciamo sempre, infatti se ci chiamano interveniamo. E' una cosa importante perché specialmente nell'età pediatrica, ma io direi anche nell'età adulta ma comunque in special modo nell'età pediatrica, un bambino quando va in ospedale ha la necessità di sentirsi un po' come a casa. Possiamo illuderlo dando del colore, sicuramente dando anche degli arredi più confortevoli e soprattutto una serie di servizi che devono agevolare sia il ricovero ma anche e soprattutto l'adeggenza ospedaliera e questo un po' vale per tutti noi. Il bambino è molto più impaurito, i genitori sono sicuramente più fragili quando devono affrontare la lunga ospedalizzazione dei loro piccoli ed è per questo che la Dricesta esiste. E' una spinta emotiva che ci invoglia ogni giorno di più a fare qualcosa per aiutare chi vive momenti di malattia. In questo specifico contesto è stato un incontro perché la vita è veramente fatta di incontri e come una cara amica mi diceva le biglie vengono lanciate e poi a chi tocca tocca. A noi ci è toccato questo bellissimo incontro grazie agli amici dell'associazione Abruzzo Nomade di incontrare Salvatore Ranieri che è il cantante della solidarietà. E' un ragazzo incredibile, instancabile, infaticabile che con grande generosità raccoglie fondi, scrive canzoni, canta canzoni per realizzare dei progetti. E il progetto che aveva intrapreso 18 mesi fa era quello dell'acquisto di carrozzine per donarle poi in varie strutture che possono essere anche centri di accoglienza, anche centri per portatori di handicap e nello specifico avendo parlato della nostra attività lui si è accostato a noi chiedendoci se volevamo donare due carrozzine all'ospedale di Pescara. Io mi sono confrontata immediatamente col dottor Di Luzio e lui ha detto che in effetti avevano necessità per alcuni reparti dell'ospedale e che quindi ben accette queste due carrozzine. Poi, vista anche l'entusiasmo con il quale abbiamo raccolto questa proposta, lui ha donato cinque carrozzine e ha preferito proprio il nostro centro, la nostra associazione, io sono molto onorata della stima che mi ha riservato per aiutare il nostro ospedale. Quindi abbiamo subito individuato il pronto soccorso dell'ospedale di Pescara con il primario dottor Alberto Albani e poi le altre carrozzine verranno suddivise in altri reparti che ne necessitano, non necessariamente solo nell'ospedale di Pescara ma anche negli altri duecenti ospedalieri dell'ASL che sono Popoli e Penne. Quindi le abbiamo ben accolte, ci auguriamo anzi che ne arrivino di altre perché c'è questa necessità e aspettiamo anche che il cantante della solidarietà, che ieri ho incontrato in un evento benefico per la nostra associazione, sempre con gli amici di Abruzzo Nomade, possa intervenire per il nostro progetto Arredi e che possa aiutarci in questa grande crociata che stiamo facendo proprio per arredare i reparti pediatrici e non per aiutare comunque a vivere meglio l'alleggenza ospedaliera a tutti coloro che ne hanno bisogno perché quando si sta male almeno un minimo di umanizzazione ci vuole. Io infatti ho proprio il sogno del giuramento di Ippocrate fuori ogni reparto. ho una cara amica che me l'ha ricordato più volte e l'abbiamo ricordato insieme più volte penso che sia un esempio di bella sanità anche questo, poter mettere quello perché è vero anche che i degenti devono rispettare certi doveri. Io metterei proprio un documento dei diritti e dei doveri di un paziente ma anche di tutti coloro che lavorano nella sanità perché quando lo si fa con slancio, con spirito di sacrificio è giusto anche testimoniarlo nei diritti e nei doveri. I nostri medici, i nostri operatori sanitari hanno un gran lavoro da svolgere e spesso con sottonumerati per quanto riguarda proprio il personale ospedaliero. Hanno bisogno di infermieri, di medici, di operatori sanitari e ci auguriamo che prima o poi si ritorni a un sostegno al limite della decenza, come chiamo io, perché non è neanche giusto che siano così sotto pressione tutti i medici e tutti gli infermieri. Tante le iniziative che avete già intrapreso, ce ne saranno altre con un testimonial d'eccezione che ormai è un vostro affezionato, anzi un vostro fan nel vero senso della parola, Alessandro Preziosi. Eh sì, il nostro Alessandro è sempre per fortuna dalla nostra Costituzione perché è stata proprio una scelta che noi abbiamo fatto 15 anni fa. Ad aprile saranno 15 anni, quindi cominciamo quasi ad essere maggiorenni e vorremmo fare un grande evento e raccogliere, perché la sede è qui a Pescara, e raccogliere quanta più gente possibile. Ci sono stati già dei contatti anche con organizzazioni per fare un gran concerto, ci auguriamo di trovare anche dei sponsor perché la nostra principale ispirazione è comunque la raccolta fondi. Noi dobbiamo realizzare dei progetti ed è normale che ci sia in primis la raccolta fondi e il riconoscimento anche dei nostri sponsor e dei nostri sostenitori. Non tanto perché vogliano essere onorati nel corso degli eventi, ma perché io penso che il sponsor e testimonial possano comunque essere d'esempio a chi forse ha qualche titubanza sulla serietà della nostra associazione, ma anche verso chi forse ha bisogno di una spinta maggiore per donarsi al volontariato. La nostra è un'associazione che lavora, lavora tanto e abbiamo bisogno sempre più di volontari, ma soprattutto di sostenitori. Ed ho difficoltà anche qui nella nostra regione a trovare degli imprenditori che possano captare l'importanza di dover devolvere fino a 72 mila euro dal reddito d'impresa, possono essere detratti. Quindi c'è proprio una montagna quasi da superare. E non riesco a capire perché. Nel Nord le associazioni hanno molto più facilità nel reperire fondi dalle aziende, perché c'è questo concetto di poter donare entro la fine dell'anno, io lo chiedo sempre, per poterlo poi detrarre dopo cinque mesi. È vero che vanno anticipate delle somme, però tutto sommato si tratta di cinque mesi e sinceramente non dico di arrivare a 70 mila euro dal reddito d'impresa, però molte aziende potrebbero fare tanto. Prossimo appuntamento, visto che non vi fermate mai? Allora, il prossimo appuntamento sarà il 18, Babbo Natale Carabiniere, poi ci ripenseremo per il periodo natalizio, però poi subito a gennaio, il 29 e 30 ci sarà a Preziosi con il suo meraviglioso Van Gogh al Circus, e quindi anche lì organizzeremo un incontro benefico con tutti coloro che amano Alessandro Preziosi sia come artista, ma io soprattutto come persona per bene, e raccoglieremo fondi. Quindi Alessandro ci sarà sempre vicino, poi avremo un altro, ah, in 20 abbiamo un evento a Como, addirittura ai 30 anni della scuola di danza classica del Teatro Sociale di Como ci ha contattati perché per il loro trentennale vogliono organizzare un evento a favore della ricesta. Siamo con Salvatore Ragneri, il cantante della solidarietà, che ha compiuto 20 anni di solidarietà grazie a questo progetto che porti avanti in tutta Italia. È stato un anno, hai detto, entusiasmante, oggi tappa a Pescara per queste 5 carrozzelle, ma non ti fermi, è un progetto che va avanti e c'è anche un tuo disco che ricordiamo il titolo. Ricomincio da 20, grazie al disco e ai proventi abbiamo raccolto i fondi per acquistare 150 carrozzine per adulti e 50 carrozzine pediatriche. La tappa oggi a Pescara, ringrazio il fanscribe Abruzzo Nomade per la segnalazione e la bellissima collaborazione di Adricesta perché senza di loro questa donazione non si poteva fare. E quindi è una tappa dove anche oggi verranno destinate delle carrozzine e uno dei tanti ospedali italiani che stiamo facendo. La cosa bella è che tocchiamo con mano dove vanno a finire i nostri progetti. Devo ringraziare anche Media Friends, Mediaset che ci dà la possibilità di promuoverci a livello nazionale e tutte le persone che ci seguono da tutta Italia. Ricordando anche che questo progetto ha fatto veramente tantissime tappe negli ospedali, nelle case di cura, nelle associazioni di volontariato, anzi è anche un appello che lanciamo ogni volta che facciamo un'intervista perché se c'è una casa di cura o un'associazione che ha bisogno può segnalare a Abruzzo Nomade la disponibilità delle carrozzine. Quindi siamo molto soddisfatti, soprattutto perché in vent'anni sono state fatte tantissime cose. Diego Dascanio, Abruzzo Nomade, come è nata questa iniziativa, questa collaborazione? Allora noi abbiamo conosciuto il cantante della solidarietà tramite i nomadi un po' nella nostra attività di fans club. E con Adricesta collaboriamo ormai da sei anni, da quando è nata la nostra associazione. Quindi c'è stato questo contributo al progetto Ricomincio da 20 e abbiamo pensato di poter anche fare una donazione qui a Pescara, all'ospedale, dove sicuramente c'è bisogno anche di carrozzine. Professore Albani, parliamo di questa ennesima iniziativa dell'Adricesta per l'ospedale di Pescara e in particolar modo per l'umanizzazione dell'ospedale. Infatti, innanzitutto mi permette di ringraziare sia il cantante della solidarietà, Ranieri, sia l'Adricesta che hanno contribuito a fare questo omaggio al nostro reparto. Noi siamo contentissimi perché, come diceva lei, l'umanizzazione è un elemento importante nella gestione del paziente. Non è soltanto curare la malattia ma a volte anche curare l'animo. Per cui questa collaborazione che noi abbiamo con l'Adricesta che da tantissimi anni ha fatto sì che in ogni momento ci fossero accanto in questo cammino per una maggiore presenza non soltanto della sanità ma anche della parte sociale nella cura delle malattie. Il direttore generale della ASR, Armando Mancini. Certo. L'Adricesta si dimostra ancora una volta con un'elevatissima capacità di convogliare gli atti di generosità delle persone. L'atto di generosità di Ranieri è un atto di generosità che attraverso l'Adricesta arriva qui a Pescara. È importantissimo perché questo vuol dire che tutta la comunità si fa carico delle esigenze di chi è in un momento di sofferenza. Queste cose hanno un valore che va oltre il dato esclusivamente economico. Significa partecipare alla vita di tutti noi. Rossano Di Luzio, vice direttore sanitario a Dricesta con il cantante della Solidarietà. Questo connubio molto particolare. Assolutamente sì. Siamo molto contenti di ospitare questa iniziativa di questo cantante che sta facendo per l'ospedale di Pescara la donazione di 5 carrozzelle. Volevo ricordare che queste carrozzelle non andranno solamente all'ospedale di Pescara ma saranno distribuite anche ai presidi di penne e di popoli in maniera che tutta l'azienda usufruirà di questo bellissimo gesto. Dottor Boccabella, direttore dei presidi della ASL di Pescara. Meritevole questa iniziativa dell'Adricesta che va ben oltre questo simbolico d'uovo? Assolutamente sì. Noi con Carla Panzino collaboriamo moltissimo. È una persona squisita e oltretutto di gran cuore. Tutte le sue iniziative vengono sempre appena accolte perché inevitabilmente l'azienda sanitaria, ma tutte le aziende sanitarie, che hanno bisogno dei portatori di interesse, dei stakeholder, quelli che possono comunque concorrere con noi alla realizzazione di determinati progetti. L'associazione Adricesta ha un veicolo molto semplice che è il 5x1000 che molti sono liberi di assegnare a tante, tantissime associazioni, anche alla chiesa. Noi lo facciamo attraverso l'Adricesta. L'invito è quello comunque di informarsi su che cosa l'Adricesta fa e una volta che si sono chiarite quelle che sono le coordinate con le quali si può contribuire e decidere di farlo, senza impegno, anche solo a livello informativo, penso che la solidarietà abbia importanza.